Cercate un mouse da gaming a un prezzo stracciato? Questo è il Corsair Catar Pro, un mouse dalle prestazioni perfette per chiunque stia approcciando al gaming su PC. Il peso e le dimensioni sono molto contenute, adatte quindi alla maggior parte delle impugnature e perfette per uno stile di gioco veloce e frenetico. La forma simmetrica dei materiali ruvidi sono negli standard di casa Corsair, anche la posizione dei due tasti laterali non risulta scomoda. Il feedback è discreto, la pressione sui tasti si fa sentire, ma non pesa troppo, mentre l'attrito sulla rotella è abbastanza equilibrato per qualsiasi tipo di attività al PC. I DPI massimi del mouse modificabili tramite il tasto posto sotto la rotella sono ben 12.400, un'ottima sensibilità se pensiamo alla fascia di prezzo di questo prodotto. Quella che ho qui è la versione con cavo da 1,8 metri, ma esiste anche il modello dal prezzo leggermente superiore con dongle wireless da 2,4 GHz. Dove trovarli entrambi al prezzo migliore? Solo su bpmpower.com.